Sono 279 i nuovi casi positivi in Abruzzo di età compresa tra 5 mesi e 94 anni su 4.675 tamponi analizzati che restituiscono una percentuale di poco sotto il 6%. Sono questi i numeri odierni della pandemia nella nostra regione che ha visto in totale 39.814 persone contagiate dal virus. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 47, di cui 7 in provincia dell'Aquila, 16 in provincia di Pescara, 16 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 1.349 di età compresa tra i 47 e i 91 anni. Del totale odierno un caso è riferito ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 27.478 tra dimessi e guariti, più 331 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 10.987, meno 59 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 578.930 tamponi molecolari, più 4.675 rispetto a ieri. E 15.315 test antigenici, più 6.813 rispetto a ieri. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari al 2,4%. 443 pazienti, numero invariato rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 45, più 1 rispetto a ieri, con 4 nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre gli altri 10.499, meno 60 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 11.808 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 36 rispetto a ieri. 8.771 in provincia di Chieti, più 84. 8.231 in provincia di Pescara, più 89. 10.489 in provincia di Teramo, più 64. 344 fuori regione, più 2 e 171 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.